A seguito del recente decreto regionale del 24 giugno 2013, il Comitato Etico dell'Umberto I è stato accorpato a quello del Sant'Andrea, sotto la denominazione unica di Comitato Etico dell'Università Sapienza. Il numero dei comitati etici della Regione Lazio è così passato da 34 a 7, favorendo così lo snellimento burocratico e ampliando le competenze dei singoli comitati in materia di garanzia e tutela dei diritti dei soggetti sottoposti a sperimentazione clinica. I comitati etici, come ci spiega la dottoressa Elena Amici, operano in Italia esclusivamente in base a rigidi standard internazionali stabiliti nella cosiddetta Good Clinical Practice. Grazie per la visione!